Ok, oltre al fatto che ci sono pazzi che pensano che la Terra è piatto, e quelli sono di solito politici, voglio iniziare con un'immagine fatta non dalla Terra o dall'orbita, ma in passaggio, quindi è una sorta di visita dall'aldilà, in viaggio verso Giove, Galileo, non un toscano, ma un satelite, ha passato la Terra e ha poter preparato la Terra come sarebbe visto da un alieno che fa una visita per prendere un po' casa. Allora, questo è il nostro pianeta, la cosa che si vede è che i colori sono diversi, colori importanti, sono calabrati. Una gran parte della Terra è blu, ok? Questo non significa che è mare, significa che ha una postera. Non importa che questi sono un bubolo, torniamo a questo punto, ma la cosa fondamentale è che questo è un bordo solfice, e che la maggior parte della superficie indica la presenza della costera perché il mare è blu perché il cielo è blu. Quindi, studiando queste pianeta da lontano, la cosa che vedremo non è la presenza dell'essere umano, non è la presenza di piatti, non la presenza dei contenenti, ma innanzitutto la presenza della costera. Il mare è blu perché la costera è blu. Sì. Questo è semitrasparente. Questo è atto. Sì. Ok? Metti questo fuori e guardi da un angolo. Sì, però la Terra è semitrasparente. È blu. Semitrasparente. Guarda il seguito che la vostra esperienza di scrivere è trasparente. Bellissimo. Grazie. Mi ha dato un'apertura. Ok. La cosa fondamentale per oggi è come sono separati meteo e clima e quali meccanismi gestificano questi. Ok? Come mai abbiamo un clima e anche come mai sta cambiando. Ok? Iniziamo con il meccanismo. Il meccanismo fondamentale è il fatto che la Terra è semitrasparente. La maggior parte della luce che entra esce. La maggior parte parte della luce che entra è scaturata e non entra l'atmosfera. Soltanto un ordine di unità della radiazione che prendiamo dal Sole eventualmente colpisce la superficie della Terra. E questo non per causa della nuvola ma è il fatto che l'atmosfera è composto di azoto, oxigeno, acqua ma principalmente azoto. E quindi, ecco, alta tecnologia. Non c'è una lavagna. E senza gesto si muore. Si muore di fame. Ok, iniziamo con il fatto che diciamo che questa è la superficie, la Terra. la Terra è assolutamente opaco, in senso che non vediamo il centro della Terra. è semplicemente un solido, un liquido, un stato denso, sopra il quale c'è un vapore, un gas, con una densità non più che un centesimo per cento della densità della superficie, che più o meno stende non più che 100 km. E quello significa la maggior parte, la parte densa, la parte che determina il colore del pianeta dell'atmosfera. E la parte in base dell'atmosfera. ovvero in cima non c'è, non c'è infatti il colore del pianeta. Oltre la presenza dell'endolo solare e la presenza dell'endolo solare, cosa che non entra nel nostro discorso. la maggior parte dei processi radiativi dinamici e aerodinamici capitano solo nella parte inferiore dell'atmosfera. la parte sotto è un livello di 30 o 40 km. Più o meno, raddoppio o tre volte di più che la latitudine in quale volano aeroplani a questo punto. Ok? La densità di questo mezzo è determinata da una cosa molto semplice. La stessa cosa che un strano greco quando ha fatto il bagno a Siracusa ha capito che un sistema in equilibrio meccanico si comprima. e quindi la pressione dipende dalla profondità perché più basso in un'atmosfera, più basso in una piscina, più materia sta sopra e quindi si comprima a causa del peso. Ok? Il fatto che il mare e l'acqua significa che è un po' meno molto vicino, incompremibile, invece l'atmosfera essendo un gas è per forza non solo compremibile ma anche quello significa che la densità dipende dall'altezza, è più denso in base, non solo che la pressione è più alta, che si trova in cima. Va bene? Ok? Quindi, l'ucia che entra dall'altezza passa con interazioni con questo gas e dipende dalla composizione dell'atmosfera, qualunque dell'atmosfera. Stiamo parlando sia della Terra che qualcosa da Star Trek. Questo è universalmente giusto, che la luce, come in Italia un'autostrada, va avanti prima di colpire qualcuno, dopodiché spagnisce. Ok? Quindi, la luce entra fino a quanto interdisce e si diffonda o spagnisce in sviluppamento. Ok? Ok? Va bene? Va bene? No, non chiedo domande del tuo ragazzo. Fisica a livello, primo livello noi, non è che siamo super... Non preoccupare. Non preoccupare. Ah, ok. Ok? Il trasporto radiotipo è esattamente lo stesso che trovate. Non possiamo pensare che i fotoni sono motorini e l'atmosfera sono cammini. e l'unica differenza è luce, è molto determinativo e va avanti. Ok? Ok? Si pensa a queste cose quando fai pendulare. quindi, questo entra fino al punto quando, nel caso, visto che la densità è bassa e la distanza fra due collezioni tra molecole in questa stanza in ordine di 1 metro più alto, se meno denso è l'atmosfera e quindi in cima, che significa sopra 50-60 km, la distanza per penetrare luce visibile prima di essere diffusa è chilometri, non semplicemente nanometri, ma più basso. Questo può scattare, quindi viviare a causa delle incondizioni, come in un po' che ho detto in Italia, oppure poluaticarsi, che significa, sarà al livello del monotopolo, o delle competizioni costruenti dell'atmosfera. che provoca un salto interno tra due livelli energetici nell'atmosfera. Ok? Che, infatti, se niente cambia, è bilanciato da un cosiddetto dieccezioni, è un riemissione, e quello è lo stesso che luce che diffondano. Significa che non è un riscaldamento, è semplicemente un deviazionamento. Quello, il cielo è blu, è il fatto che i moleculi diffondano senza di riscaldare o raffreddare la maggior parte delle visite, è perché azoto, a causa della struttura dell'atmosfera, è più efficace per queste diffusioni in energia più alta, quindi blu rispetto a rossa. Ok? Hai visto questo visite? Ah, io volte ho un bel tramonto da una storia. Stai su una spiaggia e, più basso il sole, più rosso l'atmosfera. è esattamente perché qui, se guardi, il sole ha un angolo più lucido e rimosso dal fascio in direzione. e quindi quello che entra è smorzato, è diminuito a causa delle diffusioni e nient'altro. Non significa che c'è davvero un riscaldamento dell'atmosfera diversa. Ok? A quel punto. Ok? Ok, la differenza è che il sole sta ad un distanza di centinaia di volte più che il suo ragione. Questo è un pezzo di fisica, quindi... Ok. Come in... Buon morning. Ok. Quindi, fisica avanti. Ok. È molto semplice, è molto ovvio. Ok. Quando... Quando hai una luce in quanto c'è un forno, più vicino che sei, più caldo sempre. Ok? Quando si, semplicemente, la stessa quantità di energia esce da quel progetto e va riempendo tutto lo spazio come una sfera a varie distanze. Ok? Ognuno pezzo... Scusami. Ognuno pezzo di quella superficie, se questo è un sole. Questa parte si fa un angolo che è lo stesso che quest'angolo. Ma questa aria, se fosse la stessa aria che qui, riceve una luce. Quindi quantità di energia, l'incidente diminuisce a distanza come l'aria della sfera e quindi uno diviso è un quadro. Ok? Ok, quindi quello significa che per Venere o per Mercurio la temperatura superficiale deve essere più alta che la Terra. quando passa. Ok? In minimo, quando in orbita, ad esempio, hai un'astronauta, che ho, Cluny, attorno alla nevata spaziale, la superficie dell'astronauta raggiunge la stessa temperatura che la cima dell'atmosfera terrestre e la stessa temperatura che la superficie dell'ombra. Quindi, se metti questa panela in orbita, la temperatura della superficie sarebbe lo stesso che un bel giorno in Antarctica. Un'ordena di meno 50 o meno 60 gradi Celsius. Ok? Ovviamente, ci sono turisti a Versilia d'estate perché non è la stessa temperatura che al centro dell'atmosfera e non ci sono pinguini in Mediterraneo. Quindi, deve essere qualcosa che cambia questo. Ok? Se la temperatura, se la superficie è esposta al Sole senza un'atmosfera, sulla Terra la temperatura sarà esattamente lo stesso che la temperatura della Luna. La differenza, infatti, sarebbe meno se ci fosse solo azoto perché quello non esorba, impedisce l'entrata, però non riscalda. La differenza, e ci sono altri componenti dell'atmosfera, in gran parte prodotti da altre parti di questa superficie, principalmente questi. E io credo che pochi miliardi di anni fa siamo stati bombardati dai cometi e dai rifiuti del Sistema Solare a formazione e abbiamo mare. Siamo coperti in un superficie, in un'acqua, c'è la sicurezza che l'acqua trova una forma liquida, invece è solo ghiaccio o solo vapore. A distanza di Marte, la pressione atmosferica è così basso che, per quelli che hanno visto fascisti su Marte, e questo sarebbe di denunciare, non c'è un'acqua in forma liquida sulla superficie. È solo in acqua sfera o condensata sul polo. Parte è mescolata nella superficie in forma di vari minerali, però l'acqua come mare non esiste adesso sulla superficie. Ok? Sicuramente le pressioni e le temperature sono troppo basse. Quindi, la presenza qui dell'acqua è il fatto che ci sono processi geologici che hanno cambiato in tempo di pochi miliardi di anni la composizione dell'atmosfera terrestre. Significa che gli altri componenti, gli altri molecoli, hanno una struttura fondamentalmente diversa che l'azotto. Ok? In modo di dirlo, l'azotto è composto da azotto moleculare, da due molecoli di un'atomi identica. E quindi, visto da qualsiasi versione, è solo due atomi di azotto. Quindi, non è un'assimmetria che dà la possibilità che questo può assurviere energia. È semplicemente troppo simmetrico, si dice. Ok? Ricordate quando avete soperto la chimica. C'è. L'azotto, invece, è solo il 70% dell'atmosfera. C'è una traccia delle cose che riflette la luce. Ok? C'è acqua. E' un punto diverso. E' un punto diverso. E' un'azotto che sembra un'acqua di simmetria conoscibile. Quindi, semplicemente... E' un po' di dirlo. Semplicemente una cosa senza un'asse di simmetria conoscibile. Invece acqua è una forma così. Ok? Ok? Ok. Deliberatamente, è desegnato male. Perché, infatti, quando parliamo di simmetria, forse non è più un canino. Ok? Allora, il punto è quello, se sarebbe colpito dalla luce, come un proiettolo, ha la possibilità di ruotare, vibrare e vibrare in vari modi, ognuno di quali è risorbimento. Ok? Può resenare con la luce. Invece, l'azotto, essendo simmetrico, è semplicemente di fondo. Ok? Questo, invece, reagisce a bassa energia. Energia più bassa che quello che vediamo in visibile. Un decimo, infatti, dell'energia visibile. E quindi, è importante, è fondamentale, molto come questo, per un riscaldamento della costera. Ok. Il fatto è che questo dà un'opacità dell'atmosfera che impedisce sia entrate che uscita della luce, che energia. Ok? Fondamentalmente, la Terra è un sistema che si vede qui. È un sistema circondotto da un spazio volto. È un sistema terra. Quindi, qualunque energia che entra deve uscire. Ok? In quel senso, non è un equilibrio esatto. È un equilibrio di flusso. Che sarebbe perfetto se fosse una carta di credito. Quindi, la spesa è sempre rilanciata, ma non significa che non c'è uso della carta di credito. Ok? Lo stesso per una banca. La quantità che entra, esce. La cosa importante è, per essere rilanciata, altrimenti ci sono tenutate. Ok? Il cambiamento climatico è la tenutata. Il fatto è che la maggior parte della luce, luce, usce, che entra nell'atmosfera dal spettro solare è concentrato invisibile, in quale l'atmosfera è quasi trasparenta. Invece, riscaldando la quantità di energia riemesso che sarà esattamente lo stesso influsso che quello che entra, ha una distribuzione in spettro più pesato all'infrarosso. Energia più bassa. Ok? E' una ridistribuzione. E quindi, se l'atmosfera era perfettamente trasparenta, anche in infrarosso, sarebbe la stessa temperatura che l'alluna. Ok? Facciamo un esempio. 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 ha impedito l'uscita per la quantità che deve uscire e quindi la temperatura cambia fino al punto quando il flusso di energia è di nuovo bilanciato ok? la temperatura esterna non cambia la temperatura invece dentro l'ho coperto è la cosa che cambia l'agrediente deve aumentare per far passare la stessa quantità di energia qualunque cosa che impedisce quella uscita avrà quel effetto e uno dei primi infatti quello più importante per l'inizio della vita sulla terra è questo acqua l'incendio che è spesso usato e infatti è spogliato è l'effetto sera ok? perché la luce entra tra la finestra e l'atmosfera dentro riscalda e non può non può non può non può perdere l'energia ma basta apprendere la finestra e c'è un'invenzione e quindi esce in forma di un vento quindi la differenza fondamentale è l'effetto sera per la sera è una cosa dinamica il sistema è dinamicamente aperto anche quindi c'è un modo di scambiare a causa della turbulenza con l'atmosfera noi non possiamo come un pianeta seconda cosa fondamentale energeticamente la terra è un sistema aperto dinamicamente è un sistema chiuso qualunque cosa che capita deve essere in circolazione non c'è un flusso uscente e non c'è un flusso incidente di materia ok? tutti i modi devono chiudere in qualche modo la differenza tra meteo e clima il meteo un rigione una sorta di scatola può raffreddarsi creando localmente un vento perché la pressione quando si riscalda è più alto qui che qua e quindi è forzato in sorta di vento ok? a scala di pochi centrii di chilometri questo è quotidiano la differenza è che a livello del pianeta tutto è solo regolato dal gestito dalla radiazione dall'energia non da un flusso non da un polso non da un movimento infatti è questo la differenza in che è in parte vista da questo che è un'altra proprietà fondamentale dell'autostore terrestre acqua sul nostro pianeta l'unica del sistema sovare infatti esiste in tre fasi infatti alcuni siamo permente ci sono momenti in inverno quando dopo la ombra sembra che tutti i campi sono pieni di fantasmi ok? c'è una nevia che sale e svenisce questo è ancora deve essere cose che avete visto anche in questa parte ho visto questo in quella o in altre strade ci sono indicazioni che dicono quanti chilometri puoi andare in nebbia ok? il fatto che nebbia esiste qui e non esiste su Marte è importante nebbia è un aerosol non è semplicemente acqua in forma che assosta sono gocciolini anche più basso la temperatura diventa ghiaccio in altre parole abbiamo non solo nebbia ma anche un po' quelli hanno un'opacità diversa impediscono perché sono così opaca impediscono anche l'entrata della luce solare ma anche perché acqua assorba in infrarosso sono riscaldati quindi ci sono differenze in temperatura in questa zona che anche riscalda quando formano questi gocciolini l'atrosfera l'atrosfera una nuvola non è semplicemente una cosa che condensa quando sono in questa forma è quando condensano perdono energia perché i molecoli sono più legati ok forse ricordate in frasi di purità l'energia di condensazione l'energia di evaporazione si capisco che questo è unico però provare e ricordare in senso psicologico ok quindi quando la temperatura si abbassa abbastanza c'è possibilità che l'atrosfera ricco in acqua può formare nuvola ghiaccio e gocciolini quelli capitano nella parte dell'atrosfera in base perché sopra qui vedi quanto blu di quella parte questo è quasi prive di acqua infatti è prive di possibilità di formare acqua in qualsiasi forma oltre gas la pressione è troppo basso ok quindi è un punto qui cosa che capita cosa funziona anche per memoria oltre oltre ok il problema di caico quindi l'energia è abbastanza di rompere i legami moleculari in biocolomer e quindi c'è un disagio per la vita la parte la parte dove la terra massimizza la missilità è in il tronoso quindi questa parte qua può passare può passare lucido perché spedisce le immagini il tetto quindi il riscaldamento è più efficiente che l'uscita è la temperatura o meno ok la compositione dell'antrosfera non ciò accambi per gesti geologici non ombri esplosioni di un vulcano in Filippini per il tubo agung tra coa tutti che buttano fuori in polvere o cambiano l'antrosfera a causa della quantità di CO2 o anche CO tutto quello è molto poco sono evidenti punti tutto forma in tempo sono letteralmente istante e eventualmente eventualmente in senso di anni l'antrosfera ricircula quella o causa di queste popole c'è sporchizia dell'antrosfera per un tempo ma in tempo tutto va più o meno ad un equilibrio ok e quando diciamo equilibrio significa più o meno pochi percento di differenza che è evitato in imiglio del otocenco è la propietà di una molecola particolare che ha la stessa forma, molto semplice, che ha avuto. La differenza è che questo non è simmetrico e quindi O e anti-O può servire molto efficientemente. Infatti O può vibrare in questo senso e anche rotare. E quindi questi modi hanno esattamente la stessa energia che il universo. Anche quando sono parte dell'ottosfera e quindi qualunque composizione, qualunque cambiamento che è successo a causa di processi geologici che capitano in arco di migliaia e migliaia di anni è diverso da quello che abbiamo visto nell'ottimo secolo e mezzo. La cosa fondamentale è che la quantità opacita dell'atmosfera può giù sempre, ma il passo di cambiamento in temperatura sia per alzarsi che avanzarsi in molto meno, in pratica molto meno velocemente che quello che abbiamo visto in questo pianeta, in arco di ottenimento secolo e mezzo. Quello è un punto di cambiamento secolo. Il clima cambia sempre. È un meccanismo così semplice che quello che ho appena spiegato. Questo è il bilanciamento energetico. È cambiato sempre. Questa superficie terrestre. Questa superficie terrestre. Questa terrazza di contonenti è in dupla. I contonenti sono cambiati in posizioni. C'era il tempo quando c'era Gwandulan, c'era il tempo di Tangia, c'era il momento quando Antarctica era portata al Sud America, quando l'Atlantico è aperto, quando tutta la struttura della superficie è cambiata, ma il tempo per quello è in ordine di dieci o cento milioni di anni. Ok? La stessa quantità di, la stessa valore di salto in temperatura che era registrato al fili del giurassico che durava più che dieci milioni di anni. Abbiamo visto in meno che un secolo. La differenza non è che il clima cambia o non cambia. La differenza è che non ci sono processi geologici che possono provocare quel tipo di cambiamento. Punto. Basta. L'unica cosa che presenta su questo pianeta, ora che non era il tempo di Steven Spielberg, è noi. un altro modo di dirlo. Stavo pensando in viaggio qui, che forse la cosa più importante di sottolineare è che siamo in una nuova epoca geologica. si chiama Anthropocene, cioè Paleocene. Ok? Adesso siamo come un spazio su questo pianeta determinativo per l'evoluzione della vita. E stiamo pensando, sai? Ogni volta che vai in viaggio, forse in Asia o Stati Uniti o Africa o Sud America, porti con te cose che non sono nativi, microbi. non dimenticare l'effetto della peste bubonica. Entrata a Genova e Sicilia vicino a Pisa, tanti cose mali entrano alla Pisa. però anche quello era in Porto. Ok? Quello entrava nell'ambiente di questo peninsolo a causa non delle azioni di uccelli o della vita a distanza poco. Era a causa delle cose migratorie. Era artificiale. Lo stesso per il traversamento di vari impianti, di varie specie di animali. Adesso sono riempiti, ad esempio, l'Australia. Conigli non sono stati nativi. Peccari non sono stati nativi. Adesso sono da volque. Perché gli animali poi vengono cosciuti. Quindi bellissima. Ma hanno portato specie che non sono nativi. Qualunque cosa vi tolì, ad esempio. Le migrazioni. è anche cambiato. Sia ecologia che dieta o cucina. Ok? Questi sono banali. Le cose invece, perché quelli che capitano a distanza piccola. e pochi eventi. Non sono globali. Mi chiedono un sacco di tempo. Prima di arrivare a un livello determinativo per la vita. Invece, e questa è una cosa che voglio tornare. E il fatto che questo è un sistema aperto in energia. Ma chiuso in moto. Significa che qualsiasi cambiamento locale in temperatura. provoca cambiamenti in pressione. E quindi anche densità. E quindi provocono vendita. I denti sono globali. Circulazione è globale. E quindi qualunque cosa che entra all'atmosfera e si diffonde dinamicamente in tutta l'atmosfera non può essere impedito. Se una fabbrica in Germania butta via, o butta in atmosfera, un nuvolo di CO2, eventualmente quello sarà diffuso in tutta l'atmosfera. Letteralmente tutto. Sia l'atmosfera sud che l'atmosfera nord. Per spiegare quale parte ci vuole un altro fumetto. Ok? Torniamo oggi. Questo va bene? Sì. È comprensibile? Sì. Anche Cernobil, problemi di Cernobil... Bello! No, no, bellissima! Infatti uno dei modi di determinare... di marcare ghiaccio per determinare come cambia la temperatura dell'atmosfera è trovare una strada radioattiva. Ok? Sì. Perché in un intervallo da 1945 fino a 1962, come un specie, abbiamo fatto vari giochi nell'atmosfera che si chiama bomba nucleare. Sì. Ok? Atmosfera, provi atmosfera, e quelli a diffuso strontill, 90 e cose del genere. In tutto il pianeta c'è una strada perfettamente retta. Prima di quale non c'è e dopo di quale non c'è. E quindi quello è un modo di calibrare che sono registrati sia in Greenland, sia in Arctico, sia in Arctico. Ok? La stessa cosa che sappiamo è la finita di Irizaui, la presenza di un singolo strato, una sottile strata di elementi pesanti, asmium e ridium, che non sono normale nella crosta, ad un strato che corrisponde a transizioni fra Cretaceous e dopo. il confine di Cretaceous. Quindi, quello che è successo in Mexico. Ok? Una collisione di un astronauta. Ma ho lasciato a traccia che si trova anche in Europa, in Papi, e ha registrato l'ubbio prima. Quindi, che non lo riesco. a distanza di più che 15 minuti oltre. Ok? Ok. Quindi, con quello significa che qualsiasi cambiamento che capita anche nella circolazione, cambia come il distribuito inquinimento. Ancora, è basato sul fatto che... Ok. Siamo un sorte di stelo. Quindi, se guardiamo, questo è di base, ok? la luce che entra in una certa direzione. è... che compra un superficie più grande di questo. Quindi, questa parte riscalda perché la luce è incidente normalmente. Ok? Va bene? Va bene? Sì. Prima cosa. Significa che i fogli sono più caldi che l'equatore. si vede questo anche sulla Luna? Sì. Sì. Scusa. Sì. 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 Ok. Quello significa che qualsiasi cambiamento in qualsiasi pressione sarà più alto in un parte e meno un'altra. Anche... 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 Come in quel pazzo greco, è più calciante quando è più riscaldato. E la densità diminuisce. E quindi è più facile che rispetto a questa parte la pressione qua è più alta di qui e quindi c'è un trasporto di energia. E questo capita anche se non c'è protezione del sistema. Basta che c'è un ingrediente lungo la superficie e sarebbe esattamente lo stesso che ci fosse un disco con temperature diverse qui e qua. Ok? Va bene? Sì. Southernia. No. No vi readmo. O prossimo che theremo. Ok. Great. Great. Apare il testo di Ch Infinity kloa è merito rischio alto e poi un'adella La storia circola in questa maniera. Quindi come ci andiamo? Sono due toroidi, più o meno. In questa soluzione basta prendere la tua mano e fai così e si sente indietro. Quindi c'è una discassità, una sorta di resistenza e di movimento. Quello comincia a scendere e in un senso di una sorta di ingranaggio da parte dell'atmosfera provoca una circolazione in contrasenza. Quindi come due ingranaggi in un cambio o un orologio. Uno salva dall'equatore e l'altro è forzato di circolare. Perché la temperatura, l'ingrediente in temperatura qui, la regionale, non è abbastanza grande di provocare la stessa cosa che capita nella zona tropicale. che è molto più una forma in temperatura superficiale che la parte vicino al nostro latino. quello significa che alla superficie c'è un'escesa in attrazione. Ok? Scende e, a causa della rotazione, è diviato in discesa. in attrazione. E quello provoca qui. Un'escesa in attrazione. Un'escesa in attrazione. Un'escesa in attrazione. Un'escesa in attrazione. Questa è la root. Quella è la questione sia stata continuerà di permettere di più che dieci chilometri dal Ovest all'Est e quello anche è stabile. Più o meno è come il fiume. Ok? E c'è uno che è ora in mistero sud. Questa è vista principalmente dalla parte sud, ma l'equitone si vede qua. Quindi questa è la parte, e sto parlando di questa latitudine. Quindi vicino a Sudafrica è il capo di Bonsparamsla e questa parte invece è il polo. Ok? Se questo è perturbato, c'è un'inscesa o un'salita in l'antitudine, questo è un po' scivolante, e il rispetto al...questa gente normalmente fa una sorta di onda, e quella onda porta da qui aria fredda e da qui aria calda. Ok? Più tempo per passare una di queste onde. È ora di una settimana. E quindi si va da una settimana di tempesta, ad una settimana serena, ad un'altra settimana schifoso, ad un'altra settimana... Ok? Quello è normale. E causa del fatto che c'è un mondo in questo tipo. Ci sono vortici. Ancora, questo è il fondamentale dell'antitudine. C'è un confine per questo, una sorta di bande, più o meno 10 gradi. E di solito questo non ha un grande effetto in nostra parte. Però Inghilterra, Germania, Francia, la parte un po' più nord, vicino a 50 gradi o 60 gradi, subiscono cicloni, non uricani. Ok? Cicloni che sono provocati da questi vortici, che sono meccaniche. Però, se cambia la temperatura della superficie, la piazza di questa onda aumenta. E invece di toccare 45 o 60 gradi, scendono fino quasi all'equatore a 30 gradi o fino a 70 gradi. E quindi si vede un trasporto di aria freddissimo in questa zona. o in Stati Uniti. Ricordati quello che è successo il mese scorso. Quando la temperatura è scesa quasi a livello antarctico, per quasi una settimana. Era una di queste onda. Ok? Qualcosa che non si è stato registrato dall'inizio di registrazione in 800. La stessa cosa che, in senso contrario, è successo in Russia pochi anni fa. Un'onda di colore è esattamente quello opposto di un'onda di freddo. Ok? E l'altro senso. Anche quello. L'ampiezza è cambiato, infatti, solo perché i venti sono cambiati. Venti sono gestiti dalla rilancia energetica. Non c'è più un periodo. Quindi non c'è più una regolarità. Niente in questo genere del periodico, tra le loro attenzioni del mondo. C'è un tempo scalato. Ok? E quello è ordine di settimana o mese. C'è un altro tipo di associazione, si chiama Madden-Julian, che capita un arco di tre mesi. E quello è un cambiamento nell'ecratore di Chioggia. Ma quello è un arco di anni di lancia. Questo, invece, è anche legato a un altro meccanismo che conosce bene, si chiama El Niño. Ok? Quindi, ho voluto iniziare con le discussioni del vento. Fammi sapere quando deve stare sito, ok? C'è un'altra cosa che conosce bene dal riprendimento di caffè. Quando sono qui sulla superficie. Non significa che l'aria che esce dal tuo corpo ha una temperatura molto più bassa che l'acqua in bicchiere o caffè. È solo che è meno caricato di acqua. E quindi, letteralmente, porta quello che sta evaporando dall'acqua fuori. Ok? Invece di mettere il coperto sopra, di impedire la perdita, è aumentato perché l'aria riscaldata in contatto con quella superficie è trasportata. Ok? Sta spiegando questo qua con il centro del Niño? No. Sì. Quindi, se la superficie in un'arte riscalda sul mare, l'evaporazione provoca venti e venti anche portano via acqua e calore. Ok? Quindi, c'è una semi-regularizzazione che venti interagiscono con la superficie del mare e, se sono riscaldati in un'arte, portano via quello. C'è un effetto che non capita spesso in questa parte d'Italia, ma quando sono stato in America, in Indiana, era normale che su laghi grandi, grandissimi quasi mari, quando in inverno l'atmosfera è un po' troppo caldo. No. 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 molto raffreddato, neve, un sacco, si chiamano lake effect, ma quello capita anche a livello continentale a causa della stessa cosa, aria ricaricata di acqua a vapore forzata di salire o raffredarsi provoca una neve o può provocare la stessa cosa in un alluvione, sia solido come ghiaccio, sia liquido come pioggia, quindi la stessa cosa possiamo immaginare se questo è un regio, questo è la posta qui in Sud America e qui abbiamo per voi, quindi come in se in questa parte c'è un riscaldamento dell'acqua per qualsiasi, la temperatura cambia, qui provoca un'espansione dell'atmosfera, quindi un'salita a causa del riscaldamento che si chiama convection, la forma della nuvola cambia qui e qualunque vento sarà forzato qui alla superficie di salire, quindi c'è un'incircolazione di questo tipo, ok? Questo comincia alla parte ovest di Pacifico, che è il bacino più grande del mare sulla terra e si sposta in arco di pochi anni a causa di questo cambiamento di vento verso la posta di Sud America, ok? Quello è vedendo il nino. E per mostrare più questo è il nino al massimo, la temperatura al est del Pacifico, questo è quando c'è il nino al massimo, questo è quasi 10 gradi più che la temperatura all'ovest e quindi qui c'è un riscaldamento dell'atmosfera e circolazione apposta. Normalmente perché l'aria scende verso l'equatoria, si chiama l'equatorial convergence zone, varie che la porta che è già raffreddata o scende sulla superficie, va dall'est all'ovest e quindi provoca l'incorrenta nella superficie, ok? Ma se sulla superficie del mare la temperatura aumenta, provoca un'incircolazione di controsenso e quei due capitano in un ciclo non periodico di ordine di cinque a sei anni, ok? quello anche è successo per sempre, perché in arco di un anno, conosci che c'è in parte che si chiama inverno, in parte dell'anno che si chiama primavera, quello è a causa del punto massimo di riscaldamento, in parte dell'anno dell'emisfero nord è più riscaldato, in parte dell'emisfero sud è meno riscaldato, quindi la temperatura massima del pianeta oscilla attorno all'equatore, ok? E poi sono in mezzo. Quindi in parte dell'anno la temperatura più nord è più grande che la temperatura più sud anche nella parte equatoriale, ok? Quello è il secondo punto qui. Se anche questo jet ascilva e per quello è detto ok, ci sono limiti, quanti line sopra di quali di solito non va e sotto di quali di solito non va. Qualunque cosa che provoca un cambiamento superficiale dell'aggrediente in temperatura, cambia queste escursioni. Infatti devono aumentare perché c'è un'instabilità. Ok? Tutto questo è registrato. In anni 90 c'era il movimento fra, a parte di altri miei colleghi, sono stato uno, che hanno cominciato di fare corsi per fisici, per studenti di fisica dell'aggostale, perché di solito non devono corsi di questo tipo. E appunto a questo punto, in anni 90, era che abbiamo bisogno di studiare tutti i meccanismi perché a questo punto non ci sono indicazioni chiari, unambiguous, certi che i meccanismi vanno così, che l'atmosfera sta cambiando. Ok? Quello era vent'anni fa. Purtroppo posso dire, o anche c'è un altro punto, che quando le condizioni sono quelli che indicano senza incertezza che l'atmosfera sta cambiando il proprio dato. Ok? A questo punto devo dirvi che è troppo dato. Ok? Non pensare nel senso magico o nel senso biologico che useremo, torniamo a questa bella situazione che ho già spiegato. I meccanismi sappiamo. L'incertezza è solo quanto, non che c'è. E un punto a questo punto è quanto peggio può andare. Quello è il nostro nome. Ok? È il punto della politica. La politica, a parte il nostro discorso in Italia, volevo sapere... Italia non conta per niente. No, non conta per niente. No, ci sono la maggior parte del mondo, in senso, no, pensare non in senso nazioni. Questo è un problema globale. Ok? Più grandi i poteri. Comune per l'europeo. Nero. Ok? Quelli sono i livelli che possono portare al cambiamento. Ok? Energia alternativa è molto bella. Ma quello anche ha sui costi. Non stiamo parlando di costo economico. Perché, però, si può cambiare scambio e chi se ne frega. Il fatto è che terbini si fanno. Sono costruiti, sono macchine. Quindi consumano anche per produrli. Ok? Nucleari, dal mio punto di vista, no. Non perché, in piuria, in alcun senso, non è in soluzione. E perché cretini sono quelli che gesticano il reatore. Perché sono esseri umani. E siamo cretini. Ok? Non dimenticare quello che è successo per Boeing. Ok? Non possiamo fidarci ai codici, ai programmi. perché quelli che scrivono quei codici anche sono esseri umani. Sono stato, anni fa, ad Ohio, nell'ultima parte dell'anno 80, in un'ultima reatore nuova commissionato negli Stati Uniti per il nucleare. E, essendo in sala di controllo, era un incubo. Sono stati indicatori dovunque. Un essere umano deve essere confuso in un momento. E una macchina, un computer, non è così capace che, con intelligenza artificiale, può gestire tutta quella macchina, perché l'intelligenza artificiale è artificiale, perché è basata su codici umani. Ok? Fondamentalmente, che qualcosa va a guasto, c'è un problema. Ok? Lo stesso che qualsiasi forma di energia artificiale deve essere velocemente una rivalutazione di significati... Ok, scusa la polemica, ma è una cosa personale. Deve essere una rivalutazione del senso di costo. L'economia non entra. E non è che la Terra si muore. Ok? La Terra non si ne prega. In arco di milioni di anni, sono specie che sono distinti, sono nuove specie. L'economia non si perde quel romantismo. La cosa importante è la sopravvivenza dell'essere umano. Essere... No, avere paura. Non c'è un salvezza. Ok? Ok, vedo che la maggior parte di voi possono ricordare che in anni 80 e in anni 90 siamo stati in rischio di guerra illuminare. Ricordate. Ok? C'è un momento quando questo pianeta ha capito che il pianeta non si ne frega, però c'è la possibilità di rimuovere un certo specie. Noi. Ok? A mani nostra. Ok? Stiamo parlando esattamente sulla stessa cosa. C'è un fenomeno ben noto in psicologia che era scoperto durante il movimento antinubriale. Si chiama Psychic Numbing. Un'impossibilità e un'capacità umana di giustificare che, ok, è schifoso, ma... va bello. In qualche modo non sappiamo come, ma sarà, no. Ok? Non... ok. Manifestazioni sono belle. Chiacchiera sono belle. Azioni diretto e necessario. Abbiamo già raggiunto quel magico 100 a 1,5 gradi. Semplicemente che a questo punto non è stabile. Ok? Quello abbiamo 30 anni. Ordine di grandezza. Ma non è certo perché c'è un altro feedback che non si vede qui. non si vede in queste immagini. Solo per indicare, quando ho parlato su queste grandi onde del jet stream, ci sono... ok? Questo è il quotidiano, una cosa di guardare. Sono tutte le immagini satellitari che sono disponibili. Questo è il desiderio. Ok? Qui la distanza tra questi onde individui sono oltre di 3 o 4 mili chilometri. a una velocità di pochi decine di metri al secondo. Loro possono tracorsare il continente in un arco di un settimana. E quindi, qui c'è un' bassa pressione, qui un'altra pressione, qui un'altra pressione e così via. non è esattamente periodico perché il terreno non è assolutamente perfetto. Ci sono gli Alpi, Rockies, Andies, montagna, Death Valley, Las Vegas. Ma è in mezzo di un piano. Ok? Ci sono le diserte. E anche Imolea e Tibet. E tutti quelli cambiano da questa immagine perfetta che usiamo per il modello, la realtà. 30 anni fa non abbiamo avuto abbastanza potenza per calcolare quello, un modello prioristico dell'atmosfera. Era più o meno un singolo strata e un schematico dell'occherente. A questo punto la risoluzione di immagini satellitari è lo stesso che la distanza attraverso Versiliano. Si può individuare dall'orbita che guarda la struttura atmosferica sia migliosa che grossi 250 metri. Ok? Per fare una provisione medio, per raggiungere una certezza, un'attivabilità di più che 50%, possiamo spendere a 3 giorni. 3 giorni. 3 giorni. Per essere più o meno sicuro. 2 giorni certo. Ok? Perché nel mio tempo, quando ho iniziato, fare una provisione di 6 ore era imparato con attendibilità di più che 90%. Ma medio il rumore, l'esperienza, quello che in maggior parte delle persone in loro vita conoscono è medio, guardano che cosa capita attorno ai loro stessi. Ok? A distanza di pochi chilometri, o guardano la mappa meteo, o ascoltano imprevisioni in tv, e basta. E quello è il rumore. Per quello ho voluto concentrare. Solo, ancora, solo su questo. Ok? Questo è il locale, di poche decine di chilometri. Questo è gestito da medio, ma se guardiamo gli Alpi come un singolo pixel, un pezzo della terra, aggiungiamo Tibet, Gobi, Sahara, Pacifico, Atlantico. E tutto quello, a questo punto possiamo fare previsioni della clima molto più efficientemente e con molto più certezza che possiamo prevedere una settimana di medio. perché la media è molto più facile di trattare che la tutta di particolare. C'è differenza tra il Borno e la Svezia. Ok? Ma il senso dell'atmosfera, no. Il senso della parte in base dell'atmosfera, sì. Quindi, quando c'è un, vuol dire, un retino come Trump, che in mezzo di un'onda di freddo, dice, oh, riscaldamento climatico, dove? Sì. Ok? Ok. Ma non è solo lui, è semplicemente che, essendo più oltre che si possa dire. E un problema è che queste sono le indicazioni. Ok? E il fatto che il meteo va pazzo, e va pazzo, va strano, a un livello non di chilometri, ma di mili chilometri, che la circolazione sta cambiando, che onde di colore e onde di freddo e la seccatura aumentano in frequenza rispetto a quello soltanto un secolo fa. Statisticamente, indica che la situazione è già qui. Ok? Statisticamente non significa che, non voglio sembrare a poco di sale. Ok? Non stiamo provando di quello. In quel senso c'è tempo di migliorare il fine, ma non cambiare in andare indietro. È solo quello che voglio sottolineare. Perché c'è questo confuso da parte del popolo. Fondamentalmente, abbiamo bisogno di pensare che abbiamo nuove norme. Ok? Con quello possiamo fare qualcosa. Prima cosa importante è capire quello che sta capitando. Individualmente, ognuno di voi ha bisogno capire quali sono i meccanismi, andare oltre tutta la polemica e tutto il romanticismo e tutta la parola per provare e capire qualcosa che non è tanto difficile. Ok? I meccanismi sono gli stessi che giustificano un cesso. Se capisci come scarca una bandina quando apri un buco e nasce un vortici, si può capire il meccanismo per un tornado. Lo stesso che quando guardi fumo che esce da un incendio, quello almeno dà un senso di ralleggimento e come cambia molto in presenza di gradiente di temperatura. Ok, puoi stendere quello almeno planetario. Ma poi, infatti, la cosa che è un punto di ralleggimento non è la scienza. Essendo un scienziato, è difficile di affermare che la scienza non è, per una volta la scienza non è il problema. E non è perché tutti siamo d'accordo, ok? Non siamo freddi. Non siamo sacri doti. Quando c'è un consenso in un comunità scientifica, significa che le prove ci sono, le demonstrazioni ci sono. Non è semplicemente un'affermazione. Tutti strettano le mani e dicono, eh, va bene, la clima sta cambiando. Ok? E perché, ad un certo punto, l'evidenza definita in anticipo ha toccato il livello di trovo. Spero che quello è chiaro, perché per motivi che non ho mai capito, una cosa che è, in teoria, è, infatti, l'unica esperienza che tutti noi avremo. Non importa la politica, non importa la classe sociale, non importa l'etnica, semplicemente perché siamo dipendenti sulla stabilità del clima, la stabilità del pianeta, la stabilità dell'atmosfera. non c'è un'uscita. E non capisco come mai, come essere umani, pensiamo sempre che qualcuno ne frega di noi e vuol salvarci, no? Che non sarà alla fine la nostra risposta dell'età. Ma, piccole cose sono belle, ok, di riciclare, è molto importante, perché ognuno può moltiplicare. Quando la popolazione, tutti gli individui, si sono d'accordo, si accorgono, che è importante di fare cose ecologiche, cose cambiano. Quello abbiamo bisogno di fare. Ok? E stiamo facendo. La cosa, invece, è il livello di consumismo, il livello di sovrapproduzione, il livello di spreco. Ok? Forse possiamo dire che un po' di sacrificio da parte nostra sarà una bella cosa. Se noi compriamo due, invece, compriamo solo una di qualsiasi cosa, magari forzerà un abbassamento del livello di produzione o sovrapproduzione, se è evidente meno appropriabile di produrre di epipode più che abbiamo bisogno. Ma questo è un discorso, se noi siamo stati conosciuti, siamo già andati troppo avanti, ok, cioè dobbiamo pensare che questo clima, vecchio clima, non ci sarà più, ho capito, quindi già siamo nella fase avanzata della nuova... Non avanzata, quello forse... Forse, non lo sappiamo. Ma la cosa importante è semplicemente che siamo all'altro lato avanzato e la parte che è cambiabile. Ah, ok. Ok, ancora il livello di economia è caldo. Ma ecco, è data questa premessa, è data la premessa della comunità scientifica, come il professore Shor e altri professori che sono tutti d'accordo, ma quando questa ragazzina che si muove, non si sa come, se lo fa lei o supportata da non sappiamo chi, e tutte queste cose qui, ma non sono sufficienti comunque a fare cambiare l'opinione. Non una volta, non una volta. Non una volta, ecco. Continuo. Certo. No? Quanti di voi hanno bambini? O vengono bambini? Ok? Quando urlano, urlano solo una volta all'anno. Quando vogliono mangiare, dicono solo... E basta. Ok? Da noia. Ok? E cosa continuo? Cosa cambia quando si chiamano in tedesco? Zitfleisch. Ok? E non semplicemente lamentare. Forzare. Forzare. Ok? Volzare. Insegnare e insegnite. Ok? Mostra. Ok. Esero orgoglioso che siete convolti in un movimento per cambiamento. Ok? un po' di Vangelo ok? sappiamo che questi funzionavano in tempo quelli che controllano le risorse se loro si sentono al rischio di perdita reagiscono talvolta reagiscono in modo di salvare loro stessi ok? qualsiasi cosa che il fatto di quelli che controllano le risorse migliorerà per tutti le situazioni ok? se quelli che sono ipercapitalisti o politici che sono legati a quelli pensano che sono al rischio loro fanno le cose che hanno bisogno di fare abbiamo visto quello negli ultimi dieci anni si chiama controlli di gamma nucleare c'era il modo quando i superprateri hanno capito che era in pazia e per un periodo hanno fermato non importa che hanno continuato perché hanno prodotto continuamente gamma nucleare non hanno fatto la prova ok? hanno maganizzato le armi perché hanno capito che c'era un rischio anche per loro figli anche per loro ok? abbiamo bisogno di penso che sarebbe giusto tornare indietro imparare dal passato in anni in autonferno sono stato convolto contro guerra nucleare che è esatto che era perché è nuclear winter ok? inverno nucleare è un concetto infatti sbagliato in gran parte però era la prima volta quando era pensato che un guerra nucleare provocherà un cambiamento permanente della terra non solo per la vita ma a livello atmosferico e le genti sono stati salentati no? non è solo che Reagan e Gorbachev sono andati a recchi perché hanno detto ok facciamo qualcosa per limitare quello nucleare in parte era perché Gorbachev e Reagan loro consulenti hanno capito che andare avanti in questo modo può provocare cose irreversibili ok? abbiamo la stessa cosa qui se andiamo avanti in questo modo sarà assolutamente irreversibile quindi scusi noi abbiamo provocato questi cambiamenti atmosferici negli ultimi 150 anni di più questo è iniziato probabilmente l'abbiamo provocato in anni in 700 praticamente perché abbiamo prodotto troppo energia perché abbiamo prodotto troppo energia perché abbiamo prodotto troppo a livello di energetico no è semplicemente abbiamo in senso fondamentale abbiamo bruciato troppo carbone abbiamo cambiato le composizioni della trasfera ok? e il fatto che possiamo ok non ho parlato sul buco di ozono del cambiamento di struttura della stratosfera questo è parlato solo su troppo di sfera la parte in basso ma al livello del stratosfera sotto 30 km c'è un trasporto globale ok? il cosiddetto buco di ozono quel che è che c'è in ozono nel sopra i poli tutti due e a causa del trasporto di clorofluorocarbons qualcosa artificiale e un'ichemica che è usato per riscaldamento in aereo condizionato e frigoriferi è una cosa molto vecchia che è reinventata in anni 50 ma era sovra prodotto e ognuno rilascimento di quello semplicemente circola nella aquasfera e quello dimostra assolutamente che nostre azioni hanno cambiato la composizione dell'aquasfera del polo anche in anni 80 il protocollo di matriolo era universalmente preso su serio di vietare la produzione di CLCs e in arco di 20 anni è cambiato questo deficit è migliorato non è spaino perché non spanisha c'è sempre un deficit sopra un po' o a causa dell'azione del sole e circolazione ma quel eccesso di deficit è cambiato quindi sappiamo se governi reagiscono insieme a questo problema sarà un cambiamento la prova già esiste semplicemente che per questo quello non toccava tutta l'industria non toccava i fondamenti non importa qual sistema che hai ma qualunque economia non era una cosa complicata perché non friga di fari chi se venga si può usare un altro modo di raccordare e area condizionata si può usare in that don't know ok ma stiamo parlando di una cosa molto più di base industria generale sia in ovest che in occidente ok e solo quello che rende quindi solo movimenti di opinione ci devono essere molto più massiccio come sensibilizzazione della scelte della classe dirigente politica via quindi più movimento più forza un messaggio di base è state preattivate e non avere paura dell'azione ma avere paura di non fare qualcosa ancora non c'è salvezza o migliorare solo all'attene non mi piace dicendo queste cose perché io ho riportato pochi secoli guardando indietro in mia infanzia mi sono cresciuto in New York e per quelli che conoscono un film failsafe o da tuo ristorante mura l'ereticio Empire State era l'origine di Ground Zero quello significava un punto per armi nucleare e quello era visibile dalla casa mia quindi infanzia la mia generazione americana è cresciuta pensando che il mondo finisce prima di raggiungere trent'anni aveva un minore effetto del salsicco in generazione intera quello sta capitando ai nostri gli a questo punto loro si sentono questa paura e non capiscono come mai ok abbiamo bisogno come secondo me come le nostre generazioni di spiegare e instruire quello di capire che questo è una cosa che loro possono capire e cambiare e non essere semplicemente contenti di valentare è troppo facile perché adesso c'è Facebook c'è Twitter qualunque mezzo di comunicazione di massa che renda facile comunicazione e smorza protesta smorza azione smorza continue perché tutti possono sfogarsi e si sentono meglio dopo un uro l'altro ok posso dire una cosa mi è brutale mente che forse quello che i giovani fino a prima della mobilitazione io faccio l'insegnante insegno anche queste cose quello che non si percepiva e non ho percepito per tanti anni nei ragazzi è la paura che fossero in pericolo cioè questo vivere in una società che è basata su avere tante cose e averle sempre nuove per cui il telefono lo cambi perché è il meccanismo del contratto che ti dà l'ultimo modello cioè loro come se vivessero in una bolla dove quello che non gli è stato detto è proprio che questo modello di società determina la loro fine e il pregio della protesta di quest'anno secondo me è stato proprio quello di riuscire a riportare anche i ragazzi in piazza laddove erano anni che in piazza non ci scendeva più nessuno neanche noi adulti perché ci hanno fatto delle riforme che hanno peggiorato tantissimo la nostra qualità di vita e non siamo stati capaci di bloccare niente nelle strade nelle ferrovie nelle piazze e per me vedere quello impedisce che cosa succede se non cambi un'auto cosa succede se non cambi un'auto se non cambi che cosa succederà se magari la prossima volta bisogna andare in qualche parte dove puoi camminare cammini esatto no se prendi un bicicletta è questo ok questi sono assolutamente benari ma primo passo è cambiare lo stato di mente ok di integrare quello di sentire il significato di globalismo ok quello si può fare velocemente perché sei insegnante ok siamo stessi c'è solo una cosa universale che ognuno ragazzo e ragazze in questo mondo in questo paese in Europa in Stati Uniti soffra ok subisce si chiama la scuola l'unica l'unica esperienza universale ok e come mai sono qui se in ognuna l'unica l'unica non come un bello lezione con te ma un commento casuale di dire ok quando facciamo storia oh stiamo parlando di epoca di espansione di civilizzazione che chiediamo come mai ci sono arricioni in Sicilia ma cosa significa che in in Argentina c'è pizza ok di pensare in prima prima cosa di uscire dalla d'aria e quello si può fare con l'unica perché i studenti hanno bisogno ascoltare che c'è già pressione e tu hai un'autorità a causa della tua presenza ok qualunque cosa in famiglia in varie fede tutti credenze sono diverse l'unica cosa universale dello scuola mentre è persa la possibilità che la comunità scientifica che è un'unica in realtà possa ritorizzare il livello politico perso? no la politica usa il fatto che i scienziati non dicano mai 100% è condannente per loro perché certezza ha un significato quello che è vero è vero punto basta la verità è la verità non si può avere opinioni sulla verità e quindi se 99% dicono qualcosa non significa che è certo perché 1% può essere sbagliato ok quindi quindi quel dubbio è usato ma poi le opinioni comunque le possono pilotare a loro opinioni è in cosa puntare ok come puntare si cambia a causa della pressione ricordate quello è il rumore o no? pensare che quello è il meteo stiamo parlando del clima ok la clima è quelli che sono in continuo che capiscono cose da fare e il resto chi si cambia ok sarà sempre quel individualismo quello è in dispersione la cosa importante è la media è lo stesso per il clima no? le cose che sto parlando sono su la struttura del pianeta non cose locale è lo stesso per persone è lo stesso per voi per noi scusa ho usato il fenomeno il fenomeno ok io vorrei fare una domanda tutti siamo per 154 persone vorrei sapere quante auto abbiamo usato per venire qui quante auto cinque quante auto sai no no io sono qui in auto no io sono qui a stare in auto vediamo che noi abbiamo dato 50 auto per venire qui a sentire lei giustamente a sentire i cambiamenti ma noi il nostro piccolo inconscientemente anche involontariamente abbiamo causato venendo da lei a sentire i cambiamenti del clima un cambiamento climatico un mini cambiamento climatico usando 50 8 mezzi che pesano 1500 kg che porterà il nostro culetto di 70 kg 80 kg quindi voglio dire è chiaro che c'è un paradosso in questo che è il paradosso in cui se si vuole cambiare le cose dobbiamo cambiare noi poi chiaramente il fatto di pensare ci sono multinazionali ci sono liquidamenti mondiali ci sono gli speculatori ci sono i politici è chiaro che è un riparlare qualcun altro quello che noi possiamo fare ora non è che noi singolarmente possiamo cambiare le cose no c'è non abbiamo pieni camini no no però è chiaro che il paradosso è questo che se si vuole cambiare le cose dobbiamo cambiare dobbiamo accettare le cose no 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 non c'è nessun paradosso è solo un paradosso se lamenti senza una soluzione proposta la cosa importante che trovo in questo paese in questa cultura da quando sono sono arrivato da Marte è che spesso la gente si contentano con un lamentare ok proporre qualcosa damn it you know se vuoi scrivere opinioni scrivere blog proporre non semplicemente dire che qualcosa deve cambiare dica anche se sembra stupido e piccolo dice cosa che può una cosa che una persona può fare per migliorare qualcosa per qualcun altro non per te stesso ok sì facendo un singolo acquisto di un singolo auto auto o cambiare scusa comprare una cosa di meno è quasi negligibile negligibile trascurabile però almeno è un'indicazione e se dici puoi fare tu cambia ok quando era in anni 60 proteste contro il nucleare contro il Vietnam sono stati semplicemente lamentare quando c'era resistenza cose sono cambiate il nucleare quando era ok è venuto in mente una cosa personale solo per indicare cosa capita in anni 80 sono stato in New Mexico in un posto in mezzo di nessuna parte si chiama Xoporo dove c'è VLA e anche sono afferati alcuni alienne in anni 60 sono stati UFO ok quindi a quel punto in anni in 83 un stronzo che chiamo Reagan ha proposto un iniziativo SDI altra parola guerra stellare ok un grande laser che distrugge missili in un tratto dell'atmosfera ognuno costava progettato pochi miliardi di dollari e uno dei primi SDI proposti era New Mexico perché non c'è nessuno è vuoto e il Socorro è un piccolo paese un pezzo di polvere con 10 mila persone anche ora non è un paese per i vecchi è un metropolo rispetto sicuro ma lo stesso tipo di ambiente e quindi sembrava per l'esercito americano che sarà facile convincere le persone di accettare questa base accanto di loro perché era da per l'economia locale sarà strada sarà persona sarà soldi ok ma dopo poche settimane alcune persone hanno organizzato non solo un protesta ma usando un studio hanno capito che per impedire quello basta chiedere alcune domande chiedere quale sarà l'effetto ambientale quale tubi come sarà gestito l'idraulica ok rifiuti costruzioni e in un singolo riunione c'era un confronto fra l'esercito e quel paesino due settimane dopo era cancellato perché non volevano annoiarsi era troppo fatica di provare di andare attorno quella persona e un anno dopo il progetto completo STI era cancellato dal congresso ok un piccolo cosa piccolissimo ma non c'è STI ok e quello era fatto da tre comunità in mezzo di nessun parte ok a quel livello si può fare in ognuno di voi ci sono queste immagini di persona gruppi che hanno fatto resistenza e non solo dicendo no ma dicendo no e facciamo questo o vorremmo che fare questo quando chiediamo tutti questi sono le opinioni ok voglio sottolineare quello una cosa personale ma se quando diciamo ai politici devi fare qualcosa loro possono dire certo se dici devi fare questo hanno bisogno dire sì o no e se dicono no la risposta potrebbe essere ok che cosa vorrei dici qualcosa ok in modo di portare un cambiamento solo con concetti concreti non romanzare e per quello è ok non sono stato parte di ognuno protesto contro Gialmini e Moratti che sono capitati dieci anni fa che cosa è successo zero la gente si sono sentiti molto molto validi perché sono stati sulla strada c'era onda anomala tutto che era un bel senso di bloccare sono stato sul binario con i ragazzi e sono entrato in pista dell'aeroporto ok che cosa è successo zero in anni 60 in anni 90 sono stato a Washington con 200 mila altre persone protestando l'entrata di America in guerra in Iraq un giorno dopo la protesta siamo entrati in guerra ok perché era semplicemente dimostrazione di essere preoccupato ma senza di dire no ok a questo punto abbiamo tempo questo non capita in un giorno o un anno abbiamo ordine di decine di anni ma se non iniziamo adesso con programmi concreti che esistono già ok il protocollo di Parigi e il protocollo di Kyoto non sono semplicemente vincoli su produttività sono molto di più c'è l'inizio di pianificazioni a livello globale non mattini ok è solo in condizioni iniziali proprio questo voglio partire da questa ultima considerazione per evitare un localismo che non ci aiuta perché se il cambiamento climatico è globale il problema è che ci vogliono politiche globali perché noi in Europa siamo una piccola cosa rispetto all'Asia l'Africa no 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 fammi finire il discorso no 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 dal punto di vista del numero perché l'incidenza del numero di persone di uomini sul clima sta al rapporto tra la crescita economica molto alta che c'è nei paesi Stati Uniti America Giappone e altri Cina e altri che invece a questo livello di vita cui noi siamo vorrebbero arrivare e per arrivare a questo livello di vita nasce una questione di riequilibrio nell'ambito dell'umanità dello sviluppo di medio e lungo termine che magari né io né te vivremo perché alla fine il rapporto fra quantità di uomini sulla terra che sono una parte della vita globale della terra rispetto agli animali alle piante e così via e la loro incidenza sui cambiamenti climatici o trova una nuova dimensione di riequilibrio ma anche fra nord e sud della terra fra ovest ed est della terra quindi voglio dire che i nostri consumi ci sono ma sono nulla rispetto a quelli che verranno ancora avanti rispetto a chi deve evolversi quindi vuol dire che dobbiamo ripensarlo a questa non so come ecco però no è solo quell'ultimo punto non è nulla perché Chioto questo lo affronta ma marginalmente paragonando la quantità di consumo e quello che giustifica questa sovroproduttività è molto pesato a certi paesi occidentali no non dico nient'altro che quello che sta capitando in Stati Uniti in in Mexico in Canada ok questi modemetti capiscono che non è il numero della persona è il consumo complesso ok siete europei ok potete votare in quel ambiente potete forzare un discorso concreto di politici in ognuno travi colette dibattito in campagna elettorale per il Parlamento europeo ognuno punto ok per dire le cose assolutamente personale concreto sarete qualsiasi cosa che volete fare no qualunque cosa che fate serve basta fare ok no questo sono d'accordo iniziale ancora di lamentare non fa niente ok di dire che non può capitare magari no ok ma o meno abbiamo bisogno per la ecco un Grazie.